Diplink, interviste e approfondimenti con Torino Cultura. 14.45 in punto e un saluto da Diplink, il format di approfondimento di Torino Cultura, come sempre in onda tutti i giovedì in diretta streaming audio-video. Vi saluta Cinzia Melis al microfono, ma vi saluta anche Eliseo Greco in regia, che vi saluta facendo ciao ciao con la manina. Subito salutiamo il nostro ospite, Giorgio Valletta. Ciao Giorgio. Grazie, grazie per l'ospitalità rinnovata. Ci eravamo visti proprio l'ultima volta, un anno fa di questi tempi. Eh sì, no, anzi, mi sa che ci siamo visti, ti correggo subito. No, ti avevamo invitato per Sound to Sound, non Sound, The Classical Sound, scusa, The Classical Sound of Music, era Rai Nuova Musica. Rai Nuova Musica, è stata un'altra circostanza ancora, hai ragione, ormai la memoria non mi aiuta più. Esatto, ho fatto un miscuglio tra Club to Club e The Classical, comunque ci siamo capiti. Sì, già allora eri venuto a raccontarci quali erano le incursioni che è esplosiva alla società che hai fondato insieme a Sergio Ricciardone e Roberto Spallacci. Associazione Culturale. Cosa ho detto? No, 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 va benissimo. Società che fa un po' società per azioni. Esatto. Associazione Culturale che veramente annovera tante iniziative nell'ambito della musica elettronica e non solo. Ma direi che insomma forse la più, la punta di diamante è questo Club to Club, questo festival che quest'anno arriva alla quindicesima edizione. Ebbene sì, stiamo avvicinandoci all'età matura, piano piano. Siamo un festival adolescente, come ha scherzato dicendo Sergio Ricciardone in un'intervista recente. E' un quindicesimo compleanno che noi viviamo con gioia e pathos particolare perché in particolare quest'anno credo che ci sia una grandissima attesa attorno al festival per una serie di motivi, non ultimo insomma il fatto che il festival è diventato un punto di riferimento italiano e internazionale per chi ama la musica più innovativa che sta a cavallo tra elettronica e tante altre sfumature, tanti altri generi. Noi usiamo spesso la definizione di avant pop per definire quello che facciamo. Quindi il pop d'avanguardia, quello che in futuro potrebbe essere considerato pop. Pop, bella questa definizione, ci piace. Non ho detto, lo dico subito, quando si svolgerà questo festival, cioè dal 4 all'8 novembre, in concomitanza con la settimana delle arti contemporanee e quindi anche nell'ambito di quel contenitore più grande che è Torino più Piemonte Contemporary Art, che è stata iniziativa che è stata presentata proprio oggi e che appunto farà di Torino per tutto il mese di novembre la capitale dell'arte contemporanea in città, la capitale dell'arte contemporanea con un senso lato dell'arte, quindi tutte le arti e di conseguenza anche la musica. La musica assolutamente. Noi in particolare ci troviamo molto a nostro agio in questa cornice, da sempre in pratica, che il Club to Club è sempre stato posizionato in questa settimana e perché la musica che cerchiamo di proporre attraverso gli artisti che chiamiamo ad esibirsi al festival, crediamo sia la più interessante e innovativa artisticamente, dunque la più contemporanea possibile nel nostro ambito. Sì, 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 certo, quindi insomma state proprio bene in questo ambito. Mi viene anche da dire, qui però la musica non è come spesso accade, come dire, il suono che crea un po' l'atmosfera per gustare al meglio l'arte contemporanea. Qui la musica non è il tappetino, lo sfondo che crea il mood, è proprio protagonista. È assolutamente protagonista in primo piano. Tra l'altro Club to Club è nato con questo nome 15 anni fa perché la formula iniziale del festival... Ecco, diciamo come è nato. Nella sua primissima edizione, che fu nella primavera 2002, era praticamente un circuito di tre club, di tre locali discoteche, come li vogliamo definire, dove si fa a ballare, uniti da un unico bignetto. Quindi pagando un ingresso unico si potevano andare a vedere vari DJ che proponevano la loro musica nei tre club collegati. Quella formula ovviamente è cambiata, si è evoluta progressivamente. Due aspetti in particolare differenziano la configurazione attuale di Club to Club da quella originaria e cioè il fatto che il festival non si svolge più nei club, ma in luoghi che poi andremo a descrivere a volte molto istituzionali, a volte molto moderni, ma che comunque non hanno più nulla a che vedere con quel concetto e poi ci siamo via via evoluti dal festival di DJ set alla situazione attuale che invece vede al 90% gli artisti esibirsi in performance dal vivo e quindi un festival di veri e propri live set, come si dice tecnicamente. Sì, sì, sì. Tornando ancora un momento ai primordi, insomma, alle prime edizioni di Club to Club, volevo domandarti allora, 15 anni fa, qual era l'urgenza di fare una cosa di questo tipo? Qual era l'esigenza che sentivate voi di Explosiva? Beh, noi innanzitutto siamo, io e Sergio Ricciardone siamo nati come Explosiva, che era una serata in cui facevamo i DJ, quindi era una serata da club, nel 97, inizialmente con me, lui, DJ residenti e basta, poi abbiamo iniziato a coltivare l'idea di invitare dei DJ ospiti stranieri, la cosa ha preso piede sempre di più, qualche anno dopo, complice il fatto che nel frattempo insieme a Roberto Spallacci avevamo messo su un'associazione culturale, appunto, situazione esplosiva, che poi si sarebbe occupata di tante altre cose, oltre che nelle serate di esplosiva, ci è nato l'idea di provare a mettere su un cartellone, appunto, che inizialmente era questo festival molto naif, molto embrionale e che poi è diventato una piantina che è cresciuta sempre di più e ha fatto, ha ramificato e ha fatto anche, ha dato anche dei buoni frutti e credo che poi nel tempo, proprio per la sua attitudine, e qua ti rispondo, la nostra attitudine è sempre stata quella di cercare, di proporre musica nuova, di portare in Italia e a Torino gli artisti che magari non si erano mai esibiti nelle nostre parti prima e la storia di Club to Club è piena di prime, di anteprime nazionali, di artisti che poi avrebbero lasciato il segno da Riccardo Villalobos a James Blake, tanto per fare un paio di nomi. Insomma, questa cosa credo ci sia poi riconosciuta dal pubblico che è in qualche modo fidelizzato al festival e che spesso notiamo che non vede l'ora dell'annuncio, dell'edizione successiva per comprare biglietti, per partecipare, per esprimere la propria opinione rispetto al programma. In qualche modo anche c'è una fiducia crescente rispetto alle nostre scommesse artistiche, al fatto che noi puntiamo su dei nomi che poi magari diventeranno più importanti nello scenario musicale internazionale. Che erano quelli giusti, insomma. Avete un certo fiuto. Spesso. Spesso. Bene, bene. È una caratteristica interessante questa e credo che sia anche davvero una buona opportunità per chi vive a Torino o chi ci viene per sentire questa musica. E quindi, insomma, conoscenza per chi non la conosce e invece una conferma per chi la conosce già. Decisamente. Tra l'altro una delle scommesse di questa edizione, visto che stiamo per cominciare ad ascoltare un po' di musica per intervallare le nostre parole, è quella di portare al Teatro Carignano, che ormai è diventato da alcuni anni la sede della serata del giovedì di Club to Club, un artista che addirittura pubblica il giorno successivo, una coincidenza assolutamente non voluta ma particolarmente curiosa. Quindi chi sarà il Carignano venerdì sera, giovedì 5, un artista che pubblica il suo primo album venerdì 6 novembre, ma che in realtà è già un musicista molto stimato nell'ambito della musica dense elettronica, ma che intanto per complicarci la vita, dopo essersi fatto conoscere con dei singoli, delle produzioni che mescolano la house, il funk, la black music, in questo album che si intitola Elenia, mette invece mano alla sua formazione musicale che è molto più classica, molto più legata al jazz per esempio, in un disco che io trovo davvero un viaggio straordinario dal punto di vista emotivo e di grande suggestione. E da qui voglio proporvi un brano. Allora ce l'ascoltiamo, cosa ci proponi? Credo che la musica di Floating Points sarà adatta alla cornice del Teatro Carignano, musica che tra l'altro proporrà con una band, con una formazione di 10 elementi, questo è un estratto di 3-4 minuti da una suite che nell'album ne dura 10, di un brano intitolato Silhouette, Floating Points. Ascoltiamolo. Chi disannuncia? Prego, vai Giorgio. Si intitolava Silhouette, appunto questo è un edit, è la versione che coincide con il videoclip che vedete su YouTube, tra l'altro realizzato da un gruppo di animazione di Barcellona con degli effetti straordinari e che sarà, le cui tecniche saranno presentate tra l'altro in uno degli incontri collaterali al festival pomeridiani nell'Absolute Symposium, proprio il giovedì pomeriggio prima della performance di Floating Points. Floating Points cioè Andy Shepard, musicista che arriva da Manchester e che appunto si esibirà, ahimè, in una serata già tutta esaurita al Teatro Carignano, giovedì sera, il giovedì prossimo, 5 novembre 2015. Sì, dicevamo che sarà un po' spiazzante forse ascoltare questo tipo di musica in un teatro barocco, ma non è l'unica location diciamo alternativa per Club to Club. C'è anche il conservatorio e vabbè i padiglioni del Lingotto mi sembrano già più in linea con la situazione. Al conservatorio cosa ascolteremo? Al conservatorio, altra serata che già sold out, mercoledì 4, la serata inaugurale del festival, vede protagonista Apparat, musicista berlinese che ha anche lui una vicenda piuttosto particolare, lui è emerso nell'ambito della Tecno con collaborazioni con musicisti come Ellen Alien o i Mod Selector e invece negli ultimi anni ha sentito l'esigenza di una svolta musicale dedicandosi per esempio a lavori teatrali come l'adattamento di Kriegum Freedom, Guerra e Pace, per il quale ha realizzato le musiche, oppure ancora la colonna sonora molto recente di un film che è diventato un caso non solo in Italia, ovvero la recente opera di Mario Martone dedicata alla vita di Giacomo Lopardi, Il giovane e favoloso, che tra l'altro ha valso ad Apparat anche un premio speciale alla mostra di Venezia dello scorso anno per le musiche che si è aggiudicato per l'appunto e questo concerto è proprio dedicato ai suoi lavori, alle sue colonne sonore, Soundtracks Live, al conservatorio di Piazza Bodoni, mi piace doverlo annunciare così per dover dire che poi in realtà non ci sono più biglietti disponibili. Che peccato, che peccato, però vabbè noi siamo contenti che comunque invece sia già sold out perché insomma è meglio avere un teatro pieno che dove era due giorni prima dire venite a vedere questo concerto. Sarà interessante, vorrei dire anche che questo è uno dei tre appuntamenti che rientrano diciamo nell'ambito di quel contenitore che ci sta accompagnando e sta per finire, ci ha accompagnato tutto l'anno che è Torino incontra Berlino, diverse volte abbiamo citato nel corso delle nostre trasmissioni questo contenitore perché è un diciamo l'incontro con Berlino ha un po' accompagnato tutto l'anno di eventi culturali in città. Avremmo, e comunque direi che non si poteva non parlare di Berlino perché quando si parla di questa musica Berlino ha... È una delle capitali, ha moltissimo da dire sicuramente. Ha moltissimo da dire. Quindi io vedo qui che avremo anche... Altri due momenti nel corso del festival, ovvero le listening sessions che saranno guidate da un giornalista e scrittore assolutamente esperto nell'ambito come Max Dax che tra l'altro condurrà anche un'intervista con uno dei protagonisti assoluti non solo di questa edizione ma della storia di Club to Club ovvero Jeff Mills, mago e personaggio inimitabile della Tecno di Detroit e poi ancora saranno di scena nella giornata del 6, di venerdì 6, sempre negli incontri che fanno parte di Absolute Symposium nella fascia pomeridiana della programmazione del festival alla C Hotel di via Bisalta 11 in zona Lingotto, il Sound Walk Collective ovvero progetto artistico composto da personaggi che arrivano da New York e da Berlino e che presenteranno una installazione particolare, un progetto che loro hanno realizzato per sonorizzare il Berghain che è un po' il club simbolo di Berlino chiamato Berghain Vibrations and Resonances nel quale hanno letteralmente suonato la struttura del club in questione come se fosse uno strumento musicale, tra l'altro un concept se posso aggiungere molto vicino a quello che muove le composizioni di un progetto che anch'esso viene presentato nei giorni di Club to Club quest'anno nella sua terza edizione ovvero a Great Symphony Fortorino dove ci sono giovani produttori elettronici italiani e non che hanno creato una ideale colonna sonora della nostra città seguendo il manifesto dogma del direttore artistico di questa iniziativa Code 9 praticamente solo registrando suoni prodotti dalla struttura o dalla piazza o dal monumento che sonorizzano o dai effetti sonori esterni e poi manipolandoli al computer quindi è veramente un caso di musica concreta aggiornata al nuovo millennio molto molto volevo ancora aggiungere che Berghain comunque è la discoteca più cioè forse la discoteca più importante del mondo da questo punto di vista comunque è una delle più interessanti e una delle più mitizzate ecco ecco magari forse non ecco però è diventata un mito comunque si si ed è molto molto carismatica molto chiacchierata mi sono documentata un'ex centrale elettrica perdona al confine tra i due quartieri di Kreuzberg e Friedrich Hein e quindi è diventato hanno messo insieme i due nomi Berghain e beh si mi è sembrata anche questa cosa molto interessante così come sono interessanti è interessante il fatto che questo hotel in cui si svolgeranno gli incontri la C Hotel sarà proprio il quartier generale del festival perché alcuni artisti mi pare saranno proprio sistemati alloggiati tutti gli artisti e tutti i medi alloggeranno la C Hotel davvero sarà il punto di ritrovo del festival per coloro che lo vogliono vivere o lo possono vivere anche nelle ore pomeridiane il lavoro permettendo e comunque prima delle serate dedicate alle performance e lo stesso Absolute Symposium ospiterà performance di numerosi artisti vi invito a consultare poi il programma nel dettaglio perché qua rischiamo di perderci mille dettagli sul sito che è club2club.it tutti questi appuntamenti ovviamente sono ad accesso libero quindi non c'è nessun biglietto non c'è nessun tutto esaurito almeno in questo caso sì pensavo proprio questo che chi non è riuscito appunto ad accedere chi si è svegliato troppo tardi insomma diciamola così per comprare i biglietti però almeno non dico che si consolerà perché non è un ripiego però potrà apprezzare il festival da un altro punto di vista in orari diversi ma anche proprio così con un taglio diverso magari più così informale informale ma credo non meno interessante come esperienza sono convinta che non sarà un ripiego abbiamo parlato di Berlino ecco vogliamo fare un altro ascolto che invece fa capo alla scena londinese la scena inglese che è un po' di questi tempi da alcuni anni a questa parte la nostra stella polare principale quindi mi stai dicendo che Berlino non è più così insomma Berlino è un punto di riferimento ma l'Inghilterra io faccio sempre questo riferimento anche se non c'entra nulla con la musica elettronica ma fin dai tempi dei Beatles gli inglesi hanno dimostrato di essere forse i migliori nel mondo nel rielaborare e rimescolare le musiche che arrivano dalle altre parti del mondo i Beatles combinavano il rhythm and blues e appunto il pop e da lì in poi ci sono stati mille altri esempi di questo Jamie XX è davvero un interprete contemporaneo di questo melting pot sonoro come dimostra il Commonwealth britannico secondo me ha comunque dato questo nella genetica forse agli inglesi totalmente e questo suo album in color lo ritengo personalmente anche se non l'avessimo portato al festival avrei detto lo stesso uno dei dischi dell'anno di questo 2015 bene ce lo ascoltiamo con Sleep Sound Jamie XX sarà di scena venerdì sera all'ingotto altra serata sold out ma poi dopo parliamo di appuntamenti che non sono sold out va bene Sleep Sound uno dei estratti più suggestivi da In Color l'album di Jamie XX che sarà tra i protagonisti del venerdì sera tra i più attesi visto che appunto il suo album è davvero stato apprezzato da moltissimi sì Club to Club 2015 c'è anche lui c'è anche lui mamma mia quante cose è Club to Club quest'anno direi davvero adolescenti molto attivi però eh non siete adolescenti in crisi siete degli adolescenti che comunque propongono in realtà io mi avvicino ai 49 quest'anno però insomma è il festival che è adolescente certo certo bene bene e quindi insomma è giovane e vuole ancora evolversi sì 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 no è sempre bello comunque avere queste occasioni di ascolti nuovi e insomma e inediti dicevamo sì anche prima della trasmissione dicevamo come un po' cambiato anche il così l'atmosfera adesso ci sono poi gli eventoni e questo lo è però sì potrebbe essere forse come dire un tratto un po' di ripiego ecco magari questa musica una volta forse era più sentita più più diffusa però il fatto di avere un festival così che ha questa visibilità forse però la fa arrivare anche a più persone non lo so sì in realtà i numeri se parliamo delle cifre del numero di spettatori che vengono a seguire gli eventi di Club to Club sono in continua crescita da anni e anni a questa parte l'anno scorso abbiamo toccato i 40.000 quest'anno crediamo che saranno superati tranquillamente c'è un problema strano ne parlavamo prima di andare in onda noi due cioè io ritengo proprio che ci sia un grosso un great divide si direbbe in inglese un grosso divario tra quella che è la cultura nell'ambito musicale rimaniamo questo ambito che viene seguita da un pubblico attento insomma le produzioni i musicisti gli artisti come dire di nicchia si dice di culto che hanno un seguito molto fedele e poi le cose invece che nella musica pop di oggi arrivano alla massa e che sembrano ancora più grosse di quello che sono secondo me anche a volte un problema ingigantito rispetto alla realtà perché viene viene distorto da come i media propongono la situazione le classifiche musicali stesse non rispecchiano più i gusti del pubblico perché è una minoranza la parte di consumatori di musica che compra dischi o che acquista dei download oggi ci sono mille modalità di ascoltare la musica certe volte certe volte i reti lavori poi si sorprendono di fronte al fatto che un festival come il nostro che appunto se si esclude il nome di cui andiamo a parlare alla fine non ha un headliner di grido arrivi a fare così tanti spettatori è sorprendente in qualche modo comunque sì e no se si tiene conto di questo aspetto forse sì è che proprio cambiato il modo è cambiata la fruizione della musica e questo quindi si ripercuote anche su questi dati un po' che appunto possono sembrare sorprendenti di un festival così sì sì devo dire io che appunto sono un po' tradizionalista tradizionale nell'ascolto non dire così non è vero sì che non è vero quei quei nomi lì li guardo dico ma boh mai senti poi però no ecco cioè voglio dire poi quando l'ascolto perché magari perché sì forse non è che la si senta tantissimo almeno poi dipende dalle cose che uno frequenta c'è anche un grosso problema sulle radio in Italia qua si potrebbe aprire un discorso lunghissimo andiamo fuori tempo massimo però c'è un appiattimento dei gusti addirittura dettato dai media causato dai media in Italia quindi non sono solo le major le etichette a dominare c'è anche un po' c'è si ha paura forse anche a proporre delle musiche diverse sì perché poi si perdono inserzionisti pubblicitari o si ha paura di perdere audience ai fini delle rilevazioni dell'ascolto ci sono tutta una serie di meccanismi veramente perversi che ci hanno portato a una situazione nella quale la maggior parte dei network radiofonici italiani passano i 40 brani che in quel momento sono in classifica non scommettono più su nulla di nuovo le radio private o radio libere come si chiamavano una volta erano tutta un'altra cosa e proponevano musica nuova e questo è un po' il problema che c'è anche nella musica contemporanea cosiddetta colta perché anche lì comunque c'è quella anche quella si fa fatica ad ascoltarla non solo perché allora quindi le nostre orecchie fanno fatica ad ascoltarla perché non sono abituate a sentirla ma poi sai la cosa che mi fa arrabbiare di più adesso per chiudere questo discorso poi chiudiamo e torniamo a Kertu Club mi inquieta mi dà fastidio e mi fa poi sempre rispondere animatamente a queste obiezioni e quando sento parlare amici che magari non sono così addentro a queste cose e che dicono eh ma tanto la musica di oggi è tutta uguale fa tutta schifo alla radio non si sente mai nulla di buono e la mia risposta è certo se tu ascolti sempre quelle radio non troverai mai nulla di buono se cerchi un po' più in profondità le cose ci sono ci sono ne sono convita chiusa questa parentesi sull'ascolto e sull'abitudine all'ascolto perché comunque bisogna abituarsi ad ascoltarla la musica non è appunto non è solo un sottofondo qualcosa che uno canticchia sotto la doccia torniamo al Festival Kertu Club avevi accennato prima a un altro progetto interessante che è Great Symphony for Torino esatto in associazione con il British Council se non sbaglio esatto un progetto nato insieme a loro ecco per il terzo anno quest'anno si rinnova e si aggiorna con nuove composizioni ecco e qui c'è una sinergia come si dice adesso con le luci d'artista che si accendono proprio sabato 31 insomma che tutti credo tutti sappiano che cosa sono le luci d'artista comunque sono queste opere d'arte luminose a cielo aperto praticamente che fanno della città fino al 10 gennaio appunto una sorta di galleria d'arte luminosa a cielo aperto e che sono anche in concomitanza con il periodo natalizio in cui normalmente si accendono le lucine ma queste sono luci diverse quelle torinesi e qui come è l'interazione tra installazioni artistiche e musica? beh c'è un'interazione molto stretta perché a Great Symphony for Torino come dicevo prima è una colonna sonora dei posti più storici ma anche più moderni della città di Torino quest'anno tocchiamo 15 punti 15 come la quindicesima edizione? non è stata una cosa assolutamente casuale è stata anche un po' voluta perché erano 11 ne abbiamo aggiunti altri 4 e noi andiamo a 15 trovate tutto il dettaglio dei punti sul sito che è a Great Symphony scritto con 2y.net e praticamente ciò che succede è che giovani musicisti della scena elettronica torinese italiana ma anche internazionale hanno realizzato queste composizioni per sonorizzare appunto in maniera molto contemporanea la città di Torino il tutto verrà presentato proprio sabato 31 in concomitanza con l'inaugurazione di luci d'artista ci sarà un defilé teatrale per le vie del centro che arriverà in piazza San Carlo alle 19 e poi da lì si partirà da piazza San Carlo e dal totem noi li chiamiamo totem sono delle installazioni ciascuna delle quali riporta un QR code un codice di quelli quadrati un po' strani in bianco e nero che se li fotografate con uno smartphone vi danno l'accesso a ciascuno dei brani di questa ideale sinfonia e poi verranno toccati durante questa specie di piccola parata il totem di piazza Castello e si chiuderà in piazza Palazzo di Città tre dei musicisti che sono stati coinvolti in Agrae Sinfoni Fortorino si esibiranno in delle brevi performance sono B&Ois 13 scritto in numeri romani e OB la cosa importante è che ancora una volta coordinare tutto questo progetto è stato Code Nine, musicista davvero d'avanguardia della scena britannica elettronica a capo tra l'altro di un'etichetta come la Hyper Dub e che non solo ha dettato appunto questa sorta di manifesto dogma per realizzare queste composizioni di cui parlavo prima ma quest'anno si è anche messo in gioco direttamente perché uno dei brani, quello che sonorizza Piazza Madame Cristina anche questa non è una scelta casuale è stato composto completamente da lui con i suoni di Piazza Madame Cristina io ho avuto modo di ascoltarli in anteprima ovviamente perché sono un insider però insomma quando lo potrete ascoltare da sabato vi renderete conto che ha fatto davvero un lavoro straordinario Code Nine, coincidenza sta qui sarà il protagonista della festa di chiusura gratuita ad accesso libero quindi qua niente sold out nel pomeriggio di domenica 8 novembre nel quartiere di San Salvario una giornata che si chiama Carlsberg Dance Salvario e che animerà tutto il quartiere di San Salvario dalle 11 del mattino fino a mezzanotte con tantissime cose che in qualche modo hanno un tema legato in buona parte alla Danimarca quindi a partire dalla birra poi tante altre cose immagino cibo ci saranno cuochi danesi si leggeranno favole danesi ci sarà un collettivo di ragazze DJ danesi che suoneranno in questa circostanza che si chiamano Up Your Own Crew insomma è una giornata che credo tra l'altro le previsioni del tempo siano positive a differenza dell'anno scorso che abbiamo avuto una domenica piovosa e comunque sono arrivate 10.000 persone a San Salvario la domenica quest'anno contiamo di superare quella cifra di realizzare una specie di vero e proprio block party una festa di quartiere che animerà la domenica bene bene sì sì avremmo un San Salvario Emporium insomma tante cose ci piace anche questa festa danese e c'è anche la Torino di Lego vero? c'è anche la Torino di Lego perché i mattonci di Lego arrivano da Billund non so se sia il nome esatto della città ne sai più di me però è Danimarca è Danimarca ho giocato tanto con i Lego da piccola anch'io un po' ma non sapevo questi dettagli vabbè 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 spezziamo ancora con un po' di musica eh sì direi di sì dai partiamo per l'ultimo ascolto forse è il penultimo forse è il penultimo ancora via allora vai uno dei protagonisti della serata del sabato all'ingotto e qua i biglietti ci sono ancora ma affrettatevi perché stanno volando via molto velocemente lui è new yorkese giovanissimo 24enne oggi di lì ma di origine cilena si chiama Nicolas Yar e davvero anche in questo caso scusate se mi ripeto uno degli artisti più ispirati nel partire da coordinate sonore che affondano nella minimal techno nell'house ma che poi creano davvero un mondo onirico un mondo molto suggestivo e psichedelico nella sua musica questo brano è una piccola anteprima perché fa parte del suo nuovo EP che esce in questi giorni per la RNS e si intitola Fight Nicolas Yar Nicolas Yar con Fight dal suo Nymphs 4 appunto il quarto di una serie di EP che portano questo titolo uno dei protagonisti del sabato sera all'ingotto di Club to Club 2015 tra i protagonisti ci sarà anche Jeff Mills che citavamo poco fa One Tricks Point Never musicista americano che combina suoni visionari e visual davvero tecnologicamente innovativi e poi insomma il festival nel suo programma propone tantissimi altri nomi di primo piano della scena elettronica contemporanea come Fortet come Todd Terry come Holly Herndon personaggi storici come due componenti dei Floor Bean Crystal band storica dalla fine degli anni settanta insieme a Nick Void dei Factory Floor nel progetto Carter Tutti Void voglio segnalare anche la presenza di un musicista siriano Omar Soleiman che è stato scoperto e valorizzato discograficamente dai mod selector berlinesi che citavamo poco fa e che praticamente propone una versione una interpretazione elettronica di una musica tradizionale da matrimoni della Siria la Dabke e tra l'altro Omar Soleiman ha lanciato ci ha coinvolto e noi abbiamo accettato molto volentieri sì volevo proprio parlare no dillo tu bella questa cosa l'ho molto apprezzata una campagna per aiutare i rifugiati siriani praticamente a tutti i media i giornalisti accreditati al festival visto che hanno la fortuna di seguire il festival gratuitamente a gratis è stato chiesto un contributo di 5 euro che vada appunto a questa causa una campagna che si chiama Our Heart Akes for Syria il nostro cuore è dolorante per la Siria siamo molto contenti e orgogliosi di essere stati coinvolti da Omar Soleiman anche in questo progetto sì mi pare che ci sia anche Medici Senza Frontiere in questo progetto sì l'avevo letto sul comunicato stampa e volevo volevo arrivarci benissimo Giorgio cos'altro possiamo dire ancora di possiamo fare un rapido accenno all'Italia New Wave sì e poi ci ascoltiamo un pezzo di Tom York se no non ci stiamo esatto velocissimo allora naturalmente in mezzo a tutti questi artisti internazionali e questa globalità del suono innovativo rappresentata a Club to Club c'è spazio per la Italia New Wave che è un progetto che abbiamo iniziato a lanciare 5 anni fa e che a sua volta piano piano coltivandolo ci sta dando dei riscontri sempre più positivi anche soprattutto dal punto di vista estero internazionale di Italia New Wave è un cartello di giovani artisti produttori italiani che noi riteniamo particolarmente interessanti e innovativi che spesso volentieri si fatica a rinchiudere nelle consuete definizioni di genere musicale e che stanno davvero proponendo delle cose molto interessanti raccogliendo una platea di critica di pubblico internazionale prestigiosissima tra questi e tra quelli che si esibiranno a Club to Club ci sono il torinese Vaghe Stelle che tra l'altro ha pubblicato il suo nuovo disco proprio per l'etichetta di Nicola Ziard Other People quindi non proprio una cosa da poco e Lorenzo Senni che è uno che ormai gira continuamente il mondo il suo ultimo album è finito nella top ten dei dischi migliori dell'anno scorso per Fact Magazine insomma ci sarebbe tantissimo da dire anche lui in ascesa c'è una nuova onda italiana di musica elettronica ancora una volta i media mainstream non ne parlano le radio normali non le mettono noi cerchiamo di promuoverli e speriamo bene 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 e allora passiamo invece alla conclusione alla grande come si dice finale col botto esatto la ciliegina sulla torta di questa edizione di Club to Club un invito che incredibile ma vero è stato accettato a partecipare al festival noi sapevamo che Tom York era un fan di Club to Club anche perché lui stima e ha collaborato con molti dei musicisti che spesso e volentieri ci sono venuti a trovare nel festival e quest'anno tra l'altro ci ha chiesto esplicitamente di avere la sua performance al venerdì in mezzo a quelle dei suoi amici Fortet e Jamie XX che tra l'altro hanno anche rimissato materiale suo e dei Radiohead parliamo del cantante frontman dei Radiohead band che non ha bisogno di presentazioni e che presenterà in questa circostanza il suo ultimo lavoro solista Tomorrow's Modern Boxes disco uscito lo scorso anno di natura molto elettronica e sperimentale con la collaborazione tra l'altro sul palco di Nigel Godrich che oltre ad essere musicista è anche produttore praticamente di tutti gli album più significativi della storia dei Radiohead e di Tom York da solo a questo punto ce l'ascoltiamo detto tutto hai detto tutto ascoltiamo a brain in a battle Tomorrow's Modern Boxes il nuovo lavoro di Tom York esclusiva italiana unica data in Italia tra l'altro la quarta nel mondo nella quale presenta al vivo questo lavoro ed è la prima volta che Tom York arriva a Torino perché non era mai venuta a suonare né in proprio né con i Radiohead strano ma vero a Torino non avevano in vent'anni non avevano mai suonato la live quindi siamo doppiamente orgogliosi davvero un'edizione da non perdere questa quindicesima edizione di Club to Club io ringrazio tantissimo Giorgio Valletta perché non è stato solo un ospite ma ha condotto lui la trasmissione praticamente quindi lo ringrazio davvero pubblicamente tanto tanto davvero grazie ringrazio anche Eliseo Greco in regia ringrazio le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori per averci seguito fin qui ricordo che a breve podcast e video di questa trasmissione audio e video di questa trasmissione su 110.unito.it ma anche su in Piemonte in Torino.it seguiteci sempre 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 ciao Deep Link interviste e approfondimenti con Torino Cultura in Torino Cultura